Il senatore Arrigoni per sei minuti, prego. Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi. Del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intervengo sulla missione 2, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Per la Lega è importante che, oltre all'obiettivo principale della neutralità climatica, si punti a ridurre la dipendenza energetica del Paese, troppo alta, a come ridurre il costo delle bollette, le più alte in Europa, a come ridurre l'inquinamento dell'area del Bacino Padano, a come tutelare le nostre filiere nazionali. Il piano, che il Governo Conte ci ha lasciato pieno di lacune, deve essere rivisto anche per essere coerente con il PNIEC, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che deve essere anch'esso aggiornato con target più sfidanti rispetto ai vigenti, che peraltro abbiamo già difficoltà a raggiungere. Sulle rinnovabili, in Italia lo sviluppo non va bene. I dati pubblicati ieri registrano nel 2020 un calo delle installazioni del 35% rispetto al 2019, e non è solo colpa del Covid. Da qui al 2030 dovremmo installare ogni anno nuovi 5 gigawatt. Invece andiamo ad una velocità lumaca inferiore del 20% a quanto dovremmo. Le aste di MFR1, per gli incentivi, sono un fallimento ed il confronto con la Spagna è impietoso. Se aspettiamo le rinnovabili, di questo passo altro che idrogeno verde, non riusciremo nemmeno a spegnere le centrali a carbone al 2025. Occorre soprattutto rimuovere gli ostacoli per chi vuole investire, semplificando gli itera autorizzativi, intervenendo anche sui procedimenti di via e sull'azione di interdizione operata dalle sovrintendenze. Sull'idrogeno, in tanti sostengono che l'Italia è pronta a questa sfida. Ho tante prepressità. Ci sono forze politiche, a partire dal 5 Stelle, che vogliono solo quello verde, ma questo avrà un ruolo importante solo nel lungo termine. Che piaccia o no, sarà il gas ad esercitare il ruolo di accompagnamento alla transizione ecologica. Dunque è stucchevole la contrapposizione in atto su quale idrogeno sostenere a breve, verde, blu, rosa o grigio. Se vi è consapevolezza che l'idrogeno è importante per la decarbonizzazione, allora in attesa che maturi la tecnologia è sbagliato assumere una scelta unidirezionale. Ma perché oggi l'idrogeno verde non è competitivo? Hai voglia parlare di idrogeno per il rilancio dell'ILVA? Ne risulterebbe un aumento spropositato del costo dell'acciaio, devastante dal punto di vista competitivo rispetto a quello turco o cinese. Inoltre manca ancora una strategia italiana su questo vettore energetico. Non si è ancora deciso dove produrlo, come trasportarlo, chi e come utilizzarlo, visto che non c'è ancora un mercato. E poi per l'idrogeno verde c'è carenza di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Non abbiamo i kilowattora verdi per gli obiettivi del PMIEC? Figuriamoci per l'idrogeno. E l'Italia non è all'eolico della Germania e nucleare della Francia. Per l'efficientamento energetico c'è ancora tanto da fare. E sul superbonus, al momento di super, esistono solo i problemi. I superproblemi, creati da una misura tanto sbandierata quanto complicata, che non sta dando quello shock atteso dal settore edilizio. È assolutamente necessaria una proroga, almeno a 2023. Diversamente non parte più nessuno. Figuriamoci i condomini. E serve assolutamente una semplificazione, a meno per risolvere il problema delle difformità edilizie. Per la mobilità sostenibile non possiamo pensare solo all'elettrico, che, lo sottolineo, inquina anch'esso nel suo ciclo di vita, a partire dalle batterie, oggi per il 70% cinesi. Non solo stiamo affossando la nostra filiera dell'automotive già in crisi per il Covid, ma il corposo sostegno all'acquisto di un'auto elettrica, bene di lusso, con bonus che vanno oltre gli 10.000 euro, rischia fortemente di aumentare le disuguaglianze sociali. Alla fine del 2020, a forza di incentivi, abbiamo messo in strada poco più di 70.000 auto elettriche. Ma voi pensate veramente che sia sostenibile, come è scritto nel PNIEC, raggiungere al 2030 i 4 milioni di auto elettriche, oltre a 2 milioni di ibride plug-in? Dove troviamo i 60 miliardi di soldi pubblici? Allora, per decarbonizzare il settore dei trasporti, in attesa dell'idrogeno, è doveroso, e lo dice anche il PNIEC, sostenere lo sviluppo dei biocarburanti e dei carburanti sintetici, l'uso del GPL, del gas, del biometano, che proprio l'altro ieri la Commissione UE li ha inclusi quali combustibili per alimentare le auto pulite che possono beneficiare di incentivo, oltre ai diesel di ultima generazione. Dunque altro che bando dei veicoli a combustione interna, a maggior ragione se a bassa emissione. Una domanda per chi pensa sempre green. Il parco circolante italiano al 2020 conta 40 milioni di auto, di queste 30 milioni sono vecchie, tra euro 0 e 5. Interessa a qualcuno l'inquinamento di queste, a parte bizzarre proposte di imporre il divieto di circolazione? Stiamo scherzando con la crisi che c'è. Milioni di proprietari non hanno soldi per acquistare un'auto nuova, figuriamoci un'elettrica. Mi avvio le conclusioni, Presidente, con tre brevi riflessioni. Mettiamo in campo tutto il pragmatismo e lasciamo perdere costose derive ideologiste inefficaci e antimpresa. Diversamente falliamo con il Piano e sprecheremo tanti miliardi. Occorre poi che il Governo, nella redazione finale del Piano, consideri le indicazioni contenute in queste equilibrate relazioni, di cui molto importanti della Lega, e che poi coinvolga il Parlamento per il monitoraggio degli stati di avanzamento, degli impatti e degli analisi costi-benefici. Due, sappiamo che il Governo sta lavorando in un nuovo decreto semplificazioni. Attenzione a non fare un omnibus. Non possiamo pensare in questa fase di dare una sferzata a tutti i mali della burocrazia, perché rischeremo di fare un buco nell'acqua. Puntiamo dunque a riforme mirate. Tre, terza e ultima riflessione. L'Europa sia prudente nel voler fare sempre la prima della classe. È responsabile del solo 10% delle emissioni di CO2 e le policy troppo spinte alla decarbonizzazione rischiano di mettere ulteriormente in ginocchio le nostre imprese. Perché invece la Cina, che con il 30% di CO2 è il più grande inquinatore del pianeta e continuerà ad esserlo, mentre noi spegniamo le centrali a carbone, loro ne costruiscono di nuove. Lo scorso anno ne sono spuntate 50 e in progetto ne hanno ancora una sessantina. A loro interessa produrre a bassi costi. Non lamentiamoci dunque se Pequino acquisterà nel commercio globale sempre più quote di mercato e si rafforzerà lavorando per spostare sempre più verso di sé il baricentro della geopolitica mondiale. Ho davvero concluso e un ringraziamento lo pongo ai relatori Pesco e Stefano. Grazie.